Il contrasto con la Roma pagana, come detto, andrà avanti ancora per alcuni secoli, ma questo processo non sarà poi per un riggetto, ma per un rinnovamento di Roma dall'interno, che da pagana si sarebbe fatta cristiana. Molti autori del secondo secolo parlano dell'uso della Salmodia, penso per esempio a Tertulliano, di cui ci occuperemo. In realtà esiste una teoria di Joseph Kroll che nel suo Die Christischle Hymnodik ipotizza una preeminenza dell'innodia sulla Salmodia nei primi secoli. Abbiamo già visto come in San Paolo vengono identificati alcuni inni che avrebbero potuto appartenere alla innodia della primitiva comunità cristiana. Abbiamo anche il Carmen, citato da Plinio. Alcuni pensano che possa essere il Gloria, il che escluderebbe essere quella descrizione di una prima messa in quanto il Gloria entrerà nella messa molti secoli dopo. Philippe Bernard contesta la teoria di Kroll nel suo bel libro sulle origini del canto romano, ma vale comunque la pena menzionarla. L'innodia, essendo più libera, si sarebbe meglio prestata all'uso delle varie sette cristiane che intendevano fare passare messaggi diversi da quelli dell'ortodossia romana. La preeminenza successiva della Salmodia sarà una vittoria su questa tendenza, vittoria poi per modo di dire in quanto le eresie non cesseranno di piegare la Chiesa fino ai nostri giorni. Uno degli autori più influenti del III secolo e non solo è stato senz'altro origine. C'è un bel passaggio del suo trattato sulla preghiera in cui fa un riferimento interessante al canto. Dice a fine al versetto non conosciamo la maniera di chiedere quanto dobbiamo chiedere nella preghiera, ma lo spirito con la mente ineffabile intercede presso Dio e l'altro. Pregherò anche con la mente, salmeggierò con lo spirito, salmeggierò anche con la mente. Non può infatti la nostra mente pregare se prima di essa non preghi lo spirito ed essa stia come in suo ascolto. Come neppure può salmodiare con ritmo, in dolcezza, con misura e in concentro lodare il Padre in Cristo, sei lo spirito che tutto scruta anche gli abissi di Dio, prima non lodi e inneggi a colui del quale scrutò gli abissi e lo comprese secondo le sue forze. Ecco, questa idea che lo spirito deve precedere necessariamente l'intenzione di chi canta è veramente importante. In questo tempo, come in seguito, molti documenti per acquisire autorevolezza enfatizzeranno una certa derivazione da una tradizione apostolica. Pensiamo per esempio alla Didescalia Apostolorum, scritta verso il 250. In essa viene annunciato in modo forte il paragone fra il canto nuovo dell'annuncio cristiano e quello vecchio del paganesimo. Perché cercare ancora nel paganesimo quando nel cristianesimo hai tutto? Se ti serve un canto, dice la Didescalia, hai i salmi. Anche nella tradizione apostolica attribuita al prede romano Ippolito c'è qualche referenza al canto di salmi alleluatici, anche se forse tardiva. Tertulliano, di cui abbiamo parlato prima, ha varie referenze a pratiche musicali, come quella nel suo De Anima, in cui parla delle rivelazioni avute da una donna durante la liturgia domenicale, nel corso della quale le scritture sono lette, i salmi cantati, l'omelia pronunciata e le preghiere offerte. Vi sono altri riferimenti nell'opera di questo grande scrittore cristiano, che in qualche modo è anche controverso, come sappiamo, ma penso sia abbastanza quello che è stato già offerto.